No! No! Dimba la stia ragazzata! Io chiederei un piccolo applauso al maestro Gianni Schiuma! Grazie! Che si sta facendo strada tra nessun stungo! Stavo Gianni! Io non capisco perché mi hai chiamato. Questa rassegna che si conclude questa sera e che riaprirà a fine di maggio, in realtà è tutto merito di questo ragazzo. Ma hai iniziato, poi... No! No! In questo locale che si chiama Pau, noi abbiamo cambiato Pau e non abbiamo visto strada di Pau. No! No! Ti ho chiamato perché se abbiamo fatto queste 22 date, abbiamo iniziato il 7 novembre qui, tutti i mercoledì, con pioggia o con questo vento, chi è che bussa questo convento? E chi dà fiducia a serate del genere è abbastanza raro da individuare. E Gianni, che è un uomo, diciamo, di musica, generalmente parlando, accettò subito la proposta. E quindi abbiamo subito messo giù un cartellone musicale, di concetti di un certo tipo. Tantissime persone che io sto a ringraziare e a salutare qui ci hanno aiutato, la donata tra tutti quelli che hanno esposto le foto. Ecco, uno solo, vi ringrazio, sono Imaruma che stasera espongono tutte le foto delle 22 date fatte in questi sei mesi. e oltre a quelli che ci hanno prestato strumenti, microfoni, aste, audio, radio, video, luci, crospori, radio, internet, che tantissimi, i vari G sono alternati in console. E abbiamo scelto questa band di 7, sono 6 stasera perché la fisarboicista ha la mano massacrata che sono la ventesima data in Italia. Ci sono 6 donne da riga, arrivano da riga, le abbiamo scelte per chiudere questa stagione che è stata sinceramente, francamente, meravigliosa, è stata anche commovente per quanto i tanti ci hanno creduto. Ricordo anche l'assessorato alle politiche del mare che ha dato il patrocinio per le considerate che sono anche un po' costose dal punto di vista finanziario e popoli. Quindi vi prego di ascoltare con attenzione queste ragazze. So che è un prevestivo, quindi c'è confusione, non lo so, un po' piano. Si vede arpe, flauti, strumenti acustici. Ok, si può cacchierare però, almeno c'è confusione e più si ascolta. Grazie, ci vediamo il 29 di maggio con The Death of Space della Germania e la prossima stagione. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti i miei siamo influenciati di alla breatu, a tutti i nostri Il posto perfetto per poter vivere qui e per la prima volta di riflessione per essere in lesbiani e in friazza di riflessione in Messina. Grazie. 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 Grazie.